il mio amico mi ha detto prendi il vello d'oro di robert gaves e io ho detto scusami ma perché conosco già la storia degli argonauti che fanno tutto il bordello per andare a prendere sto vello d'oro e allora prendo robert gaves il vello d'oro tanto qua costano 2 euro i libri da cristiano medei alla libreria minerva dove tra l'altro mercoledì sera cioè domani sera presentiamo un altro libro che è l'amore resta di leandro barsotti domani alle 18 e intanto funziona così barsotti vuole più soldi barsotti costa tantissimo il libro ma vale ogni centesimo comunque robert grace costa 2 euro che ho preso qui rompendo il san vadaraio lo si mette qua dentro perché tanto qua non c'è mai nessuno e si fa via col libro